Nell'ambito dell'attività di controllo di polizia ambientale, disposa dal sindaco di Carini, Giovi Monteleone, il comando, diretto da Marco Venuti, ha disposto un piano straordinario di controllo del territorio. Grazie al sistema di videosorveglianza Aquila, che conta più di 100 telecamere dislocate sul territorio, gli agenti hanno oltre a sanzionare i cittadini che abbandonavano i sacchetti, alzato il tiro per cercare di scovare gestori professionali di discariche abusive. Ieri ci sono riusciti. Dopo giorni interi a scrutare i movimenti sospetti di alcuni soggetti, in un'area siete incontrata Sofia. Uno di loro ha fatto una manovra per scaricare i rifiuti, ponendosi proprio a beneficio di telecamera. A questo punto il responsabile della centrale operativa ha dato l'allarme. Dopo la verifica del proprietario del mezzo tramite il pubblico registro automobilistico, lo stesso è stato immediatamente scovato e accompagnato presso l'ufficio di polizia giudiziaria del comando di Piazza Sant'Anna, dove davanti all'evidenza delle foto estrapolate non ha potuto far meno di ammettere l'addebito. È stato sequestrato penalmente l'autocarro utilizzato per commettere l'illecito, onde evitare che la libera disponibilità dello stesso potesse indurre il soggetto a reiterare sul territorio l'illecito con ferimento dei rifiuti. Denunciati a piede libero due uomini, entrambi di carini, di 35 e 44 anni. Ora rischiano l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. I caschi bianchi si sono recati sui luoghi interessati dall'abbandono situati in Contrada Sofia e qui hanno proceduto al sequestro preventivo di un'area di circa 500 metri quadrati. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai complici, atteso che le immagini mostrano altri uomini intenti a scaricare e altri eventuali utilizzatori della discarica abusiva. Dal comando assicurano che i controlli in campo di pulizia ambientale proseguiranno costantemente nei giorni successivi. Grazie Grazie Grazie